Covid sono 259, i pazienti positivi al SARS-CoV-2 nella provincia Nissena, i dati riguardano l'ultima settimana e sono quelli comunicati dal consueto bollettino dell'ASP. I pazienti al momento, tutti in isolamento domiciliare, sono 105 di Caltanissetta, 62 di Gela, 24 di San Cataldo, 12 di Niscemi, 9 di Mussomeli, 8 di Santa Caterina Villarmosa, 6 di Serra di Falco, 6 di Acquaviva Platani, 4 di Bonpensiere, 4 di Butera, 4 di Riesi, 4 di Sommatino, 3 di Milena, 3 di Vallelunga Pratameno, 2 di Resuttano, 2 di Delia, 1 di Montedoro. Sono invece 9 i pazienti ricoverati in degenza ordinaria, 5 i dimessi. I guariti salgono quindi a quota 228 e mentre in Sicilia sono 1.221 i nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore, a livello nazionale, secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute, sono 34.444 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle 24 ore, in calo rispetto al dato dei 43.716 registrati il giorno precedente. Stabile quindi sopra quota al 20% il tasso di positività nell'intero Paese.